Il capo è arrivato. Chi è che parla? Ho un'idea. Il walkie-talkie. Forza, dove l'hai messo? Dai. Ecco. Tieni, prendi, canta. Non ti piace Dilan? A quale sbiro non piace? A quale razza di persona non piace Dilan? Canta! Maledetti americani, perché non se ne restano a casa? Chiedigli cosa vuole. Mi chiede che cosa vuole? Lo voglio qui, entro dieci minuti, altrimenti ti sparo in faccia. Dillo. La vuole qui, entro dieci minuti o mi sparerai in faccia. Era sorpreso. Un uomo con una mitragliatrice ha occupato la credit banca. Tutti a terra! Questa è una rapina! E uscite subito tutti da qui! Lasceremo andare le signore quando sarà finita. Volete i soldi? Un milione di dollari americani e una Mustang 302 come quella di Steve McQueen in bollito. Oh, certo mi piace quel film. Hai disattivato le videocamere. Pensi che dovrei? L'hai mai fatto prima? Ti sembro un'idioda? Tutta la Svezia vuole sapere come ci si sente a essere bloccati lì con dei criminali. Non è così male. Vi fidate di lui? Molto più che della polizia. Devono portarci rispetto se vogliono essere aiutate. Se la polizia entra e inizia a sparare, lui risponderà al fuoco. Non ci voglio tornare in prigione! Ok, devo uccidere qualcuno. Cosa? Le ragazze sono state ferite? Sì. Perché dicono così? I poliziotti mentono per ottenere quello che vogliono. Sei molto coraggiosa, lo sai. Sapevate che la vera scuola Top Gun impone una multa di 5 dollari a chiunque dello staff nomini il film con Tom Cruise? Parlando invece proprio del film, è venuto fuori che Val Kilmer non avrebbe voluto recitarci, ma fu costretto per obblighi contrattuali. È diventato poi uno dei suoi ruoli più iconici. Grazie per essere stati con noi. Per altre curiosità e video potete cliccare qui a fianco oppure in info box trovate il link per seguirci su TikTok. Ciao da Valeria.